Sei pronta per dolcetto scherzetto? Sì Hai già dei dolcetti? Sì Ti le ha dati la mamma per incoraggiamento? Altro Altro no, dopo amore Che vuole? Ma tanti 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 tanti, li dobbiamo prendere alle altre case amore Viene mamma in me Oddio Ma sei bellissimo La tua zucca adesso la prendiamo Ciao Bellissimi, pronti? Quante caramelle prendiamo? Dos Ogni anno, la famiglia Ferragnez è pronta a festeggiare Halloween come un vero rito Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro piccoli Leone e Vittoria Lucia Si preparano per la caccia ai dolcetti con grande entusiasmo I due bambini sono già vestiti con costumi spaventosamente adorabili E non vedono l'ora di riempire i loro zaini di prelibatezze La serata di Chiara e Fedez, tuttavia, continua con un evento speciale Dopo la caccia ai dolcetti La coppia parte per un'occasione mondana Lasciando i bambini sotto l'attenta cura dei nonni Ma al loro ritorno Una tenera sorpresa li aspetta a casa Il cane di famiglia, Paloma Li accoglie con una dolcezza straordinaria La piccola Pelosa è alla ricerca di affetto e carezze E questa volta sembra più calma e serena del solito La sua tranquillità è contagiosa Riempiendo la casa di una serenità che si fonde perfettamente con lo spirito festoso di Halloween La famiglia Ferragnez non potrebbe chiedere niente di meglio Per concludere una giornata di dolcetti, costumi e divertimento Grazie a tutti